Il settore delle leucemie acute negli ultimi anni, diciamo nell'ultima decada, ma in particolare negli ultimi cinque anni, ha goduto di tanti progressi che sono poi sostanzialmente legati all'introduzione di strategie terapeutiche basate sulla terapia di precisione. La terapia di precisione significa che oggi è possibile pensare di fare delle terapie sempre più personalizzate dei pazienti affetti dalle leucemie acute, amieloide o linfoide, sulla base delle caratteristiche biologiche della malattia. Quindi quello che serve è diagnosticare bene la malattia, caratterizzarla sul piano biologico, evidenziare le alterazioni genetico-molecolari e poi testare contro questi targets dei farmaci cosiddetti intelligenti o mirati. Questo ha consentito di ottenere in alcune forme di leucemia acuta dei progressi sensazionali. Ricordo sempre la leucemia acuta promiolocitica, una malattia che 20 anni fa era mortale rapidamente in più dell'80% dei pazienti. Oggi è diventata curabile e guaribile in oltre il 90%. La guarigione è un obiettivo, ho appena citato l'esempio della leucemia acuta promiolocitica, ma questo obiettivo piano piano si va estendendo ad altre forme di leucemia acuta, sia amieloide che linfoide. E questo, ripeto, grazie ai progressi della medicina di precisione. Abbiamo tanti farmaci innovativi, intelligenti in sperimentazione clinica, alcuni sono già molto promettenti, alcuni di questi sono stati recentemente approvati dall'autorità regolatoria americana FDA e sono stati sottoposti all'EMA in Europa per l'approvazione. E quindi c'è tutto un pacchetto di nuove strategie terapeutiche che ci offrono la speranza che anche in generale, in altre forme di queste leucemie acute, si possa cominciare a vedere la fine del tunnel dove c'è la guarigione della malattia. Ma sicuramente la risposta è sì, oggi è possibile guarire una frazione di questi pazienti e a breve termine io spero fortemente che questa frazione possa sicuramente aumentare in maniera significativa. Grazie a tutti.